ciao a tutti mi chiamo Gianluca Santa Caterina dal 2001 sono un portatore di pacemaker una visita medica improvvisa ha rilevato delle anomalie al mio cuore ottobre 2022 un'ablazione cardiaca molto lunga ma da allora da quando mi è stato impiantato il pacemaker organizzo delle lunghe fedalate benefiche per fondazione Città della Speranza buongiorno a tutti io sono Federica sono una ricercatrice di Città della Speranza sono anche da poco diventata mamma e io lavoro nel gruppo di ricerca che studia i linfomi pediatrici noi siamo il laboratorio di riferimento nazionale per cambiarsi dei linfomi che colpiscono i bambini in Italia ho incontrato Gateway questa azienda leader nella promozione di immobili per i clienti stranieri che vogliamo acquistare in Italia e con loro abbiamo condiviso questo bellissimo progetto che si terrà per l'intero mese di maggio l'intero mese di maggio che vedrà il sottoscritto pedalare per l'Italia per il nostro bellissimo paese e per l'intero mese di maggio Gateway destinerà il 5 per cento del fatturato a fondazione Città della Speranza nel contempo promuoveremo anche una raccolta fondi siete tutti invitati ovviamente a sostenerla e aderire a questo progetto conto su di voi grazie